In attesa della triennale, la processione in programma il 29 marzo a partire dalle 21 della Chiesa della Santissima Annunziata a Viareggio, venerdì sera, per le strade della città, si è svolta la Via Crucis, che ha visto il coinvolgimento diretto delle comunità parrocchiali viareggine nell'evento più significativo della Settimana di Passione. La presenza del Vescavo Giulietti ha aggiunto un tocco di solennità e spiritualità all'evento, rafforzando il legame tra la Chiesa Universale e la comunità locale. La partecipazione dei fedeli è stata massiccia, con un'affluenza che ha dimostrato l'importanza e la rilevanza di questa antica pratica di devozione. La Via Crucis del 2024 è stato un momento di riflessione profonda sulla passione e ridenzione, con la città stessa come sfondo, testimone della fede e della spiritualità che permeano la vita quotidiana dei suoi abitanti. L'evento di venerdì sera ha rappresentato non solo un momento di preghiera e contemplazione, ma anche un'opportunità per rafforzare il legame tra la Chiesa e la comunità locale, evidenziando il ruolo centrale della fede nella città di Viareggio.